Ezio Pascutti, primo in classifica nell'apprezzamento dei tifosi rosso-blu nella storia del Bologna, è un apprezzamento che fa davvero piacere credo. Guarda Marco, io credo che una soddisfazione così non la proverò mai più, perché io sapevo che i bolognesi mi volevano bene, ma fino a questo punto non avrei mai pensato, anche perché questi internet, queste cose sono fatte anche da ragazzi molto giovani, quindi... Che si ricordano di Pascutti. Che si ricordano di Pascutti, quando hanno detto che io aspettavo, non so, magari il quarto, così, quando la fine andava avanti, che è arrivata, mi è mancato quasi il respiro, devo dire la verità. Davanti a Bulgarelli in classifica, davanti a tanti altri campioni. Io pensavo che fosse Giacomo, insomma, il prescelto, anche perché lui è bolognese, mentre io sono bolognese d'adozione, perché sono 45 anni che sono a Bologna, però, d'altra parte, cosa vuoi? Io con i tifosi bolognesi sono sempre andato d'accordo, io voglio bene loro come loro hanno sempre voluto bene me. Il gol più bello di Pascutti qual è? Ma guarda, Giacomo disse quello lì, ma io mi ricordo un altro molto bello, che è stato il centesimo gol che feci e l'applauso che durò, penso, dieci minuti, quello è stato una cosa che mi ha commosso moltissimo. Ancora complimenti allora. Ti ringrazio Marco. Grazie.